Jack! Benvenuti in questo nuovo video! Noi siamo Leggina, sono Gesù B e oggi faremo un video strano Già, perché partiamo con questo, con un rossetto tipo viola che a lei non piace proprio per niente non vedo l'ora di toglierlo e abbiamo messo questo e praticamente consiste nel provare tutti i rossetti della Emma visto che è mia 2000 e sono bellissime ok, da che parte volete iniziare? facciamoli vedere ce la potete vedere ok, solo che non li proviamo tutti, sennò non finiamo più questo? no, tutti i colori scuri che io odio questo è il secondo rossetto ok dai togliamolo dai ma questo vai che figo ma è una matitona no era già così lo so, lo sto dicendo a me stessa sono stata io io ogni volta che apro qualcosa lo uccido ma non scrive dai ok, questo è il risultato ok, questo è il risultato ok, questo è il risultato rifallo e questo ma che occhietti la Emma è vero e questo è il risultato no, stai, ti ho devi dirlo perché questo è il risultato è questo è questo quello, quello e quell'altro è il risultato di questo fantastico coso bene Caterina scegli intanto che se mi chiami Caterina l'hai fatta vedere? siamo alla fronte della diva sì, come si fa questo è il risultato un tocchino ok questo è il risultato no no, metà sembra metà cuore ok devi fare la sanità no ma non sono capace no, no, no seguiti non ti preoccupare che non piango quindi mettiamo questo anche se non si vede Katia, entro nel quadratino mi devi un po' di labbra nuova così ah sì perché questo video è stata la mia in te ecco raga questo era l'ultimo dobbiamo dire che non è bellissimo ma non è bruttissimissimo oh, è il mio parere guarda le bravi ok io mi toglierei questa cosa perché no, dobbiamo chiudere il video ma io non lo so schifo e niente no, scherzo non mi piace saluta Antonio saluta Antonio saluta speriamo che questo video vi sia piaciuto bene siamo arrivati alla fine del video scriveteci nei commenti cosa vuoi che ti faremo e scrivete anche qual è quello che vi è piaciuto di più esatto o a chi stava e se volete quello che volete e se volete la seconda parte o a chi stava mi ne proviamo cos'altro altre cose va bene viene adios bellissimo ciao adios ciao